Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, buon lunedì a tutti e buona settimana a tutti. Allora, facciamo due chiacchiere sulla partita. Lazio-Juventus. Vittoria della Juventus per 2-0. Allora, io venerdì mi aspettavo, cioè quando mi è stato chiesto il pronostico della partita, io ho detto che non do più pronostici sulla Juventus, ma perché è una squadra che per me può vincere e perdere contro chiunque, quindi non riesco più a capire, per adesso, per il momento ovviamente, non riesco più a capire, a fare un pronostico, non riesco più ad avere quella sicurezza di dire sì, vinciamo, sarà dura, ma non riesco più. L'unica cosa sicura che io riesco a dire, sistematicamente, e l'ho detta venerdì nella live del Tridente, ho detto sicuramente ci pianteremo il pulma davanti alla porta, la giocheremo tutta in difesa e ripartiremo in contropiede e poi che Dio ce la mandi buono. Così è stato, partita perfettamente imbrigliata, Allegri ha perfettamente imbrigliato Sarri, anche se Sarri gli mancavano due o tre pedine importanti, soprattutto Immobile, partita difensivamente giocata in maniera perfetta, contropiedi, rigori e potevi fare anche uno o due gol. Rigori, rigori, sto sentendo un po' di polemiche, voi sapete che io non mi lamento mai degli arbitri. Rigori, rigori nettissimi, rigori nettissimi, per chi sa cos'è il gioco del calcio, per chi vuole romper le palle poi, dicesse quello che vuole. Rigori nettissimi, quindi, che dire, la Juventus molto, molto compatta difensivamente, al centrocampo, con il centrocampo tutto arroccato all'indietro e poi ripartenze. Questa è la Juve, questa è la Juve, quello che farà martedì e quello che penso che farà sabato prossimo con l'Atalanta. L'unica cosa che do un voto in più ad Allegri, questa volta, è che quando è uscito Danilo per infortunio, che fino a quel momento lì non ci avevamo capito nulla, pallino del gioco totalmente in mano alla Lazio, io mi aspettavo che tirando giù Danilo metteva, sì, tirava giù Danilo e metteva Rugani, no? Come il suo solito, no? Invece lì ha cambiato, l'assetto tattico l'ha cambiato e evidentemente aveva capito che in quel quarto d'ora, adesso non mi ricordo quanti erano i minuti di Danilo, non ci stava capendo nulla. E ha messo Coluseschi, un giocatore un po' più alto, anche se con compiti difensivi, però da tenere almeno un po' uno spiraglio, un respiro in più, una boccata d'ossigeno in più, no? A far alzare la squadra. Questo è quello che penso io, l'unico noto di merito che do ad Allegri è questa, che ha avuto almeno il coraggio di cambiare l'assetto tattico immediatamente. Lui l'ha partito con un 3-5-2, però alla fine si è messo con la difesa a quattro, quando si è fatto male Danilo, che per me, tra virgolette, cercate di capirmi, in quell'occasione lì, era un bene che è uscito, ma non per Danilo, perché così è dovuto cambiare l'assetto tattico, perché se no non so come andava a finire, anche con la Lazio rimaneggiata. Comunque, pochi cazzi che non mi interessano, 2-0, vittoria meritata, vittoria meritata, perde il Milan, perde il Napoli, io vi dico una cosa, se la Juventus, io l'ho detta in live, l'ho detta in live, venerdì, sabato, se la Juventus batte, e deve battere, l'Atalanta, a fine anno, noi ci troveremo a 6 punti, dalla prima classifica, 5-6 punti, dalla prima classifica, chiunque essa sia, questa è la mia previsione, che è quella che poi ho fatto a inizio anno, quando ho detto che vincevamo lo Scudetto. fino alla fine, forza Juve, io non dico più, non faccio più, no, non c'ho più nezza a dire, questa è come la vedo io la partita, vittoria di corto muso una volta, di sculata l'altra, di difensiva l'altra, ma sempre queste sono, ma va bene così, va bene così, finché arrivano i tre punti, poi gli altri perdono, ultima cosa, ultima cosa, quando io vi dicevo, Sarri, come allenatore, quando lui ha i giocatori che vuole, mi piace, come uomo, non mi è mai piaciuto, come personaggio, non mi è mai piaciuto, caro Sarri, hai dimostrato, di essere un uomo di merda, ciao a tutti, e buon lunedì a tutti, e buon lunedì a tutti,